Da alcuni giorni lo stadio Gurrera, lo stadio Giuffrè e i campi di tennis della Perriera hanno chiuse battenti. Motivo la mancanza di defibrillatori, strumenti il cui possesso per gli impianti sportivi è divenuto obbligatorio. Lo scorso 30 giugno era l'ultimo giorno utile per adeguarsi alla nuova normativa, entrata in vigore già da alcuni mesi e non è stata autorizzata alcuna proroga. I tre impianti sportivi seccensi ne sono sprovvisti, quindi al momento tutte le attività sono state sospese. La disposizione prevede non solo il possesso dello strumento medico, ma anche che più persone possibili lo sappiano utilizzare. L'amministrazione comunale, da poco insediata, sta cercando di correre ai ripari. Un defibrillatore sarà acquistato con fondi comunali, mentre per gli altri saranno convocate e si cercherà la collaborazione delle associazioni sportive e di volontariato, che poi lo dovranno utilizzare. L'auspicio è quello di risolvere il disagio nel giro di pochi giorni. Il problema è particolarmente urgente per gli amanti del tennis, mentre la preparazione atletica per le squadre di calcio locali comincerà soltanto dopo ferragosto, tra più di un mese. Dal comune sono in attesa anche di un chiedimento della norma da parte del ministero. Non è abbastanza chiaro, infatti, se questi strumenti salvavita siano obbligatori soltanto durante le gare, le manifestazioni, le attività agonistiche ufficiali, o lo siano pure durante i semplici allenamenti. In ogni caso la dotazione è urgente. Al pallone tenda Nino Roccazzella, il problema non si è posto, grazie alla donazione avvenuta due anni fa di un defibrillatore da parte dell'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita, che si è occupata anche della formazione per l'utilizzo e che ha permesso così a chi opera dentro la struttura di continuare ad allenarsi regolarmente. Una nuova grana, quindi, da chiudere nel più breve tempo possibile per permettere alla società di programmare la stagione agonistica.